Emanuela Magaddino, da pochissimo nuovo presidente dell'Associazione Albergatori di Cassella Mare del Golfo. Turismo, alberghi, hotel, strutture, insomma, sono e devono essere ciò che traina l'economia di questa cittadina? Eh sì, proprio sono una nuova eletta, sono anche sia orgogliosa che grata di questo nuovo incarico. Cercherò di farlo al meglio. È ovvio, veniamo da due anni abbastanza pesanti, sia per il comparto turistico che per qualsiasi settore. Ma cercheremo, ci dobbiamo sempre rimboccare le maniche, come abbiamo fatto negli anni precedenti, quando sono successe delle cose veramente gravi. Vogliamo avere un incontro e un dialogo con l'amministrazione perché insieme possiamo andare da qualche parte, separati sicuramente no. Bene, questa associazione è nata nel 2013, è cresciuta tantissimo, adesso quanti sono gli iscritti? Gli associati, gli iscritti all'ultimo direttivo siamo in 40, ma ovviamente dobbiamo crescere perché nel frattempo sono nate altre strutture che contatteremo a breve se ovviamente hanno il piacere di associarsi alla nostra associazione, sempre per fare rete e per essere uniti, perché da soli non si va da nessuna parte. E' ancora presente come una volta il fenomeno dell'abusivismo in questo settore? Perché recentemente c'è stato un censimento da parte dell'Aggiunta a Rizzo, sono venute fuori tante realtà dei BNB che si sono finalmente denunciate. Pagano la tassa di soggiorno, poi non siamo noi gli esattori e controllori, ma ben altri preposti. Niente, sì, sono usciti tanti negli anni scorsi, tante, tante realtà. Quali sono le prime cose che lei pensa debbano fare con questa associazione? Intanto, come poco fa dicevo, essere uniti, una sinergia con le amministrazioni per crescere, valorizzare e dare anche una destinazione a questo paese, Castellammare del Golfo, cioè dare un obiettivo. Vogliamo raggiungere quell'obiettivo. Questo è soprattutto levarci di torno il Covid, che dovrebbe diventare solo un ricordo e andare avanti affinché la stagione prossima non parta a giugno come le due che sono trascorse, ma magari ad aprile. Grazie. 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 Grazie.